Bene, quando durante la selezione dei film abbiamo visto questo lavoro di Wilma Labate, siamo rimasti tutti molto sorpresi di questa storia ed è una storia che, come avete dimostrato voi con questo lungo applauso, è affascinante. Misteriosa, affascinante, come ha fatto Wilma Labate a saperne qualcosa? L'ho scoperta grazie a uno scrittore via Regino che si chiama Gianpaolo Simi, che è qui in sala e che ha scritto naturalmente con me questa storia, che me l'ha raccontata, lui l'aveva scoperta credo poco tempo prima. E naturalmente io sono impazzita di gioia, anche lui e insieme abbiamo cominciato a lavorare, presi da un entusiasmo assolutamente sconsiderato, nel senso che ci piaceva talmente tanto questa storia, che abbiamo cominciato da soli così a lavorarci. E loro? Beh, lui le ha conosciute per primo e poi le ho conosciute anch'io, parecchi anni fa e non le ho più mollate fino a quest'anno, anno in cui poi ho fatto questo documentario. Le domande sono per voi adesso, prego, alzate la mano e vi portano un microfono. Qui davanti ce ne sono uno. Allora, innanzitutto grazie, è un lavoro veramente stratificato dove c'è la politica, l'arte, l'emozione, anche un po' l'improvvisazione, fare qualcosa che non si capisce e poi improvvisamente rendersi conto di essere al centro del mondo. Quindi bellissimo, veramente mi sono commosso, non mi accade spesso. La musicista è una domanda molto semplice, cioè io aspettavo magari all'ultimo momento vedremo un frammento oppure sentiremo qualcosa, cioè rimane qualcosa a livello, magari non video ma audio, di quello che c'è stato lì, cioè qualcosa di vostro da quella tournée imprevista e così intensa. Grazie. No, non rimane niente perché in Vietnam ci hanno rubato tutte le valigie, ecco perché siamo sempre state parecchio fortunate, quindi dopo pochi giorni ci hanno rubato la telecamera, la macchina fotografica e quando siamo rientrate ci hanno rubato le valigie, quindi quello che ci rimane è solo la nostra memoria. Abbiamo lanciato un sacco di messaggi nel web, presso associazioni dei Redushi, l'USO, cioè l'associazione che si occupava degli spettacoli per i militari, forse qualcosa arriverà, forse però non è detto. Altri? Prego. Allora grazie, veramente grazie, e poi volevo sapere della voce di Manuela che manca, se potete dirci qualcosa. Manuela purtroppo ha deciso così, è stata una sua decisione, le vogliamo tutte molto bene, ancora sempre come prima, però le ha voluto chiudere e noi rispettiamo questa sua volontà, ha voluto chiudere sia con la vita del complesso, che con questa storia che ricorda il Vietnam, forse più la seconda che la prima. non si può fare altro, non la possiamo forzare, non si può fare altro che rispettare il volere di questa persona, pur continuando ad essere amiche, a volerle molto bene, perché quegli anni lì ci hanno davvero unito, nessuno ci dividerà mai più, mai più. Ancora? Prima di andare in Vietnam, come mai vi siete messi a fare una band tutta femminile? Questo è un problema, eravamo un po' musiciste, questo è in merito diciamo del Saggini, dell'impresario che aveva questa idea, siccome il Saggini era il manager dei Poo, ma non i Poo di oggi, i Poo di prima, quando ancora c'erano delle vecchie persone, e erano dei ragazzi semplici che cominciarono allora, e lui insieme, forse parlando anche con loro, con questi ragazzi, decisero di fare un gruppo femminile, naturalmente senza pretese, anche perché anche ai primi tempi facevamo le seratine dintorni, che ne so, noi siamo di Pionvino, si faceva Venturina, San Vincenzo, ecco queste cosine qui, lui cominciò in questa maniera. Poi evidentemente si cominciò a andare bene quando si trovò quest'altra persona, Daniela che era molto brava, scusa, ormai l'ho detto, e cominciò a andare a giro per l'Italia e ci fu questa cosa, ci prese la passione, io tra l'altro, mi dispiace, ma nella vita sono sempre la più vecchia di tutte loro, e tutte le volte lo dico, mi dispiace, prima ero la più vecchia, ora sono sempre la solita più vecchia di loro, però insomma abbiamo fatto questa cosa, è stata bella, io ero già sposata, però meno male il mio marito è rimasto con me, perché se no non lo so, ma insomma c'è rimasto, e quest'anno abbiamo fatto 55 anni di matrimonio, quest'anno, sicché va bene, così vuol dire che mi ha sopportato anche quegli anni di lontananza, niente, però è stato bello, una bella avventura. La cosa stupefacente di questo film è che sembra che l'ha inventato Sergio Amidei, cioè questa storia incredibile, Sergio Amidei è il grande sceneggiatore di Roma Città Aperta, se non c'eravate, cari signori, bisognava inventarvi, perché siete talmente, cioè talmente la verità di una storia incredibile, perché è una storia incredibile, voi che tornate a Piombino e naturalmente siete ostracizzate perché siete andati al sud, Mario Monicelli avrebbe dovuto farne un film di finzione, e invece questa vostra verità si incontra con una sensibilità come quella di Vilma e si sente questo incontro su tutti i piani, sul piano del cinema, sul piano dell'area del tempo, perché forse è bene che non sia rimasto nulla di foto, di film, eccetera, perché lei vi ha raccontato la vostra anima attraverso l'area del tempo e voi siete forse la verità più politica di quello che è successo allora. Grazie Vilma. Grazie, grazie a te Bruno. Sì, naturalmente quelli sono i miei anni, nel senso che avevo 18 anni nel 68, io non credo di aver fatto il 68 Bruno, perché ero troppo giovane e perché capivo ancora molto poco, però sono abbastanza sicura di una cosa adesso, a distanza di 50 anni, che il 68 ha fatto me. Potete raccontarci qualcosa del Vietnam e di quel che vi è successo che non avete mai raccontato a nessuno? Ora abbiamo raccontato tutto, trovare un episodio inedito è difficile, perché poi pianino pianino abbiamo parlato così tanto di questa avventura che abbiamo praticamente detto tutto, abbiamo raccontato il nostro stato d'animo, la nostra incoscienza, la nostra innocenza, la nostra voglia di vivere nonostante la situazione in cui ci trovavamo, e quindi ora trovare un episodio proprio particolare, a parte gli scherzi che facevamo a Daniela per passare le serate lunghe di caldo e di pioggia in Vietnam, che era molto innamorata di una bambolina che aveva portato, allora noi gli lavavamo gli occhi, gli orecchi, cioè facevamo le cose che fanno le ragazzine un po' stupidine nei momenti che non avevamo niente da fare. E poi forse una cosa che non ho mai raccontato è il grande affetto che abbiamo avuto per due persone, me l'hai ricordato te oggi, di due vietnamite che ora io non mi ricordo il nome, Juan e Colan che erano in questa casa, che ci aveva ospitato dopo che noi avevamo fatto una rivolta per venire via da un posto troppo brutto per poter vivere, e ci avevano mandato in questa casa dove abitava un ufficiale americano con una ragazza vietnamita. E c'erano queste due splendide donne che ci hanno coccolato come se fossero state delle mamme, ci hanno imparato a lavare i panni, noi non ci eravamo abituati, c'era proprio la pila, e sono state davvero due persone meravigliose. E con i soldati americani? Vuoi parlare? No, non so cosa vuoi dire, per me i soldati americani sono stati dei fratelli in quel momento, sono state persone a cui ho voluto bene, perché li guardavo, non potevo vedere quello che manifestava, lontano da lì, io vedevo dei ragazzi impauriti, questo l'ho detto, dei ragazzi terrorizzati che cercavano in noi, che eravamo diversi dalle ragazze che andavano a cantare in Vietnam, come ha fatto vedere Vilma, mezzo e nude, noi eravamo le sorelle, io la cucina, cioè eravamo delle persone che eravamo come i loro parenti, e quindi ci hanno sempre trattato bene, con affetto, con amicizia. Domande? Lasciù c'è una domanda, mi sembra. Qualcuna di voi è mai tornata in Vietnam a vedere il Vietnam moderno? No, no, a meno che non lo sappia, no, proprio no. Ok, loro, ho sentito in questi giorni che ci tornerebbero volentieri, almeno Rossella, è il più grande del Vietnam, sì, io sono molto combattuta, Viviana non lo so, ci torneresti? Sì, subito. Ecco, io invece sono combattuta perché ho paura che poi non vedrei più il Vietnam che è dentro di me, che è nel mio cuore, e quello me lo ricordo tanto, tanto bene, ho come le foto davanti, anche se non ho le foto fisicamente, e quindi mi è rimasto così questo ricordo che vorrei tenere così com'è, compreso il Vietcong, compresi i soldati feriti, insomma, non tanto volentieri, però se vado là trovo del turismo, mi hanno detto delle cose del Vietnam, ho paura che me lo sciupino, però ci tornerei via, insomma, un po' simpo no. Ma non insieme, eh? No, insieme no, ha detto insieme no. Finita. Ancora? Sì, volevo chiedere se avete qualche condatto con qualche soldato, qualche reduce, non avete mantenuto nessun indirizzo. No, io ho ritrovato, quando mi sono messa in puntata di cercare quelli che avevo conosciuto in Vietnam, ne ho trovati due, uno in Australia, il componente di un complesso che non voleva anche lui sentirne parlare tanto, dice che ne parli a fare del Vietnam, cioè che non mi interessa più, è un argomento che ho chiuso, e dai. Però ho trovato uno che in Vietnam siamo stati molto vicini, no? Era il chitarrista del complesso di Tony Van, e siamo stati molto vicini. Gomito a gomito parecchie volte, loro avevano le camere a Danang in una villetta vicina dove si dormiva noi, e con questo non ci siamo mai parlati. Io addirittura ho trovato su internet una foto dove c'è lei, Viviana, e il Sargini e il complesso tutto di Tony Van, quindi qualcosa forse si sono detti, si sono conosciuti. Beh, io questo non so come l'ho trovato in Canada, nel Saskatchewan, dove a volte d'inverno c'è meno 50 gradi, e ci siamo ritrovati, era una persona meravigliosa. Via Skype abbiamo parlato, io, meno male che l'inglese mi era un po' migliorato, ma gli facevo fare tante risate, anche a lui. Non gli dicevo di andare su quando doveva andare giù, però insomma l'ho fatto ridere tanto. Siamo stati veramente, abbiamo passato un periodo bellissimo, e poi purtroppo un brutto male se l'è portato via. Ecco perché lo volevo dire. Va bene? Ti ridò il microfono. Grazie, molto gentile. Voi avete cambiato repertorio quando siete arrivate là, o facevate quello che facevate prima in Italia? E questo parla Rossell, eh? Ecco, lo so. Noi abbiamo fatto sempre lo stesso repertorio. Cioè? Noi facevamo la musica solo, il ritmo e blues, e lo facevamo anche quando facevamo le torne in Sicilia, nei paesini, con quelli con la coppola, perché era sempre stato il nostro programma. Cioè, loro ci guardavano un po' meravigliati, però noi sempre quelli l'abbiamo fatto. E cantavate in inglese? Io inventavo l'inglese. Erano i tempi del 45 giri, le levavi un suono alla volta, no? Quindi, I swan, 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 swan. Io cantavo così. Però c'avevo forse un buon orecchio per i suoni, e me la cavavo. Altre domande? Sì. No, io volevo veramente ringraziare Bill per questo lavoro che mi sembra straordinario, soprattutto anche per la scelta dei materiali, che mi sembra che ci consegnino un Vietnam, ma anche forse altre immagini assolutamente mai viste, fuori strappato quindi dai cliché abituali, e quindi con un segno politico molto forte e assolutamente genuino. Dunque, la mia domanda era questa. Per trovare dei materiali così straordinari, mi chiedevo quanto lavoro era stato impiegato. tanto, devo dire tanto, tanto, tanto lavoro, tante ore, proprio tante, tante ore, trascorse con un montatore molto giovane, che è stato prezioso per me, intanto perché ha evitato e smussato una ipotetica nostalgia che poteva sorgere, poteva sorgere nel corso di tanti mesi, e poi perché si è appassionato a sua volta. Mario Marrone, un bravissimo montatore. Quando abbiamo cominciato a lavorare, non aveva un quadro chiarissimo della situazione. Nel tempo breve si è appassionato, cosa di cui ogni tanto noi, ahimè, più anziani, ci lamentiamo, i giovani non si appassionano, i giovani, la memoria, la storia. Lui si è voluto appropriare della storia e quindi abbiamo lavorato molto bene insieme. Non solo, ma io ho potuto, come dire, usufruire del suo appassionarsi continuamente, un po' come io mi appassionavo alle cose della realtà quando ero giovane, avevo la sua età. Quindi è stato davvero un rapporto prezioso. Io mi sono divertita moltissimo con lui. Speriamo che si sia divertito anche lui con me. Vi rendete conto che adesso siete di nuovo le stars? E cioè dovrete ricominciare ad andare in tournée col film? Che effetto vi fa sta roba? È molto emozionante, è emozionante davvero dopo tanti anni ritrovarsi così al centro dell'attenzione delle persone e poter raccontare la nostra storia. Grazie naturalmente a Vilma e a tutti gli altri che hanno lavorato per questa cosa. Però è davvero emozionante, è incredibile. È un sogno, ci ha regalato un sogno Vilma. Bene, grazie a tutti e viva le stars! Grazie a tutti!